Vediamo adesso come trasformare un impianto e i relativi costi. Questo è un appartamento, come potete vedere, i puntini gialli sono relativi alle luci e i puntini verdi sono relativi alle motorizzazioni delle tapparelle. Iniziamo con il punto luce numero 1 che era gestito da una deviata. Ora, per trasformarlo in una deviata smart è sufficiente sostituire un deviatore, quello che è apparso cerchiato in rosso. Diciamo che possiamo andare abbastanza rapidi. Punto luce numero 2, dove uno dei due punti era costituito da un dimmer, il secondo da un pulsante, dimmer a tasto più pulsante, è sufficiente sostituire un dimmer. Dove si trovano degli interruttori naturalmente è necessario sostituirli. Dove c'è un'invertita, punto luce numero 6, quindi 3 punti, 2 deviatori più l'invertitore, è sufficiente sostituire un deviatore. Ci si ripete. Dove sono presenti i doppi comandi interbloccati per le tapparelle è necessario sostituirli. Ora, il costo dei dispositivi smart calcolato come vedete scritto in alto, ovvero partendo dal listino, listino RR, IVA esclusa, ed applicando uno sconto medio e appunto mediamente hanno gli installatori, dicevo, il costo dei dispositivi smart per la serie Living Light ammonta a circa 600 euro, poco più di 600 euro. Questo naturalmente in questo esempio, in questo esempio reale. Se mi fermassi qua non sarei corretto, perché questi dispositivi smart senza il gateway valgono veramente poco. Quindi vuol dire che trasformare una casa, da tradizionale a smart, necessita dell'aggiunta di poco più di 700 euro di dispositivi smart, oltre naturalmente alla necessaria mano d'opera. Questo se la volessimo trasformare, ma non è corretto dire però che, sempre in termini di materiale, un impianto smart rispetto a uno tradizionale, naturalmente nell'esempio fatto, costa circa 700 euro in più, 720 euro in più. Perché ripartendo da questo costo dei dispositivi smart, in realtà noi dovremmo togliere il costo dei dispositivi tradizionali che non avremmo previsto se l'impianto fosse stato nuovo. Ora, quei dispositivi che sono stati buttati via, valevano circa 340 euro. Questo vuol dire che nel caso di un impianto nuovo, un impianto smart, sempre nell'esempio fatto, costerebbe in materiale quasi circa 400 euro in più. Dopodiché la domanda sorge spontanea, ma questi 400 euro sono tanti o sono pochi? Al di là del portafoglio che evidentemente non si può giudicare. Possono essere tanti o pochi, messi in relazione però a quello che è il costo complessivo di un impianto. Quindi, avvalendomi del nostro configuratore online, ho simulato quell'appartamento. Quindi, ipotizzando un trilocale, è venuto fuori, sempre nelle condizioni che vedete scritte in alto, è venuto fuori che un impianto tradizionale, come materiale miticino, living light, costerebbe circa 1600 euro. Questo vuol dire che aggiungendo i circa 400 per trasformarlo in smart, per averlo in smart, avremmo una differenza percentuale di circa il 25% in più. Abbiamo fatto la stessa valutazione anche con altre serie civili, diciamo che orientativamente potremmo dire che si uscilla da un 25% a un 40% di differenza. Questo può essere molto utile nel momento in cui, dopo aver fatto un preventivo, magari con un impianto tradizionale, il nostro cliente ci dovesse chiedere, sì ma per averlo in smart quanto costerebbe? Quindi diciamo che possiamo mettere lì un ordine di grandezza di questo tipo, 30, 40, 50% in più, ma credo che saremmo comunque, con ogni probabilità, molto distanti dall'aspettativa del cliente che mediamente si aspetta in realtà una differenza molto ma molto maggiore.